Onorevole Catifogliani, lei è neodeputata in questa legislatura del governo Conte, lei è della Lega e è stata anche vice sindaco a Portoguaro. Noi vediamo in questi giorni questa difficoltà da parte di alcuni dei 5 Stelle di dare il voto favorevole a una questione tecnica ma comunque per salvare Salvini, perché Salvini non è megaprocessato, comunque la discussione finisca. Qual è la sua impressione? Di cosa sta veramente succedendo lì che lei è proprio in persona? In realtà questo è un aspetto molto tecnico, non è una questione di indennità o di altre cose, è proprio un problema tecnico. Lui ha agito come ministro, quindi il suo incarico era esclusivamente politico dato da un Consiglio dei Ministri e con un accordo con l'altro gruppo politico con cui governiamo. Pertanto il suo ruolo in questo caso non era del tutto personale ma era esclusivamente politico. Quindi è questo il punto che non si capiva bene quale posizione dovevamo prendere. Adesso è molto chiaro, credo che anche 5 Stelle abbia ben chiarito, visto che sia Conte, sia il Premier Conte, sia Toninelli, sia anche il Vice Premier Di Maio hanno assolutamente appoggiato la causa dicendo che allora anche loro dovrebbero fare lo stesso percorso di Matteo Salvini. Ecco, si capiva, poi ognuno ha le sue interpretazioni, ma si capisce poi che una nave dai una volta dai due ci sia un tentativo di voler sbarcare. Cioè si nota insomma, ecco, diciamo che il Partito Democratico in questo senso vi dà una grossa mano per avere sondaggi. Beh, direi proprio di sì, anche perché vediamo che noi in questa situazione stiamo aumentando come consenso a livello di sondaggi, ovviamente non sono dati di voto, però a livello di sondaggi, quindi significa che noi stiamo facendo quello che le persone ci chiedono. Non è che stiamo facendo una cosa perché interessa a noi a livello personale, lo stiamo facendo esclusivamente perché è la richiesta dei cittadini. E quindi anche dopo una legge di bilancio, come è successo adesso che abbiamo approvato una legge, di solito c'è un calo fisiologico dell'approvazione del governo. In questo caso non c'è stato, anzi noi proprio come Lega stiamo in aumento. Quindi significa che questo è quello che ci chiedono le persone. Ecco, lei è stata vice sindaco di Portuguaro, ma insomma, per Portuguaro qual è il suo impegno? Allora, guardi, io in realtà adesso ho un impegno che è territoriale, oltre che Portuguaro. Come ha visto abbiamo fatto diverse iniziative, tra cui quelle del contributo fisso a tutti i comuni sotto i 20.000 abitanti, che qui da noi sono tutti tranne Portuguaro, tra le altre cose. Anche la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione dei comuni, questa è un'altra grande possibilità che abbiamo dato ai comuni da poter investire. Poi c'è tutta la parte dei controlli e della sicurezza, come ad esempio il controllo delle droghe nelle scuole, dove con i cani andiamo a verificare se ci sono dei pusher o ci sono qualcuno che spaccia droga e purtroppo riscontriamo che ce ne sono. E quindi queste sono le grosse cose importanti che, anche se vengono fatte a livello nazionale, hanno un riscontro importante sul nostro territorio.